Molto bene, l'ultima volta sul miglio dovrebbe avere qualche difficoltà contro questi avversari, mentre ripetete alle L è un po' una desaparecida, dopo un periodo fulgido si è un po' smarrita e probabilmente questa è una corsa di verifica per ulteriori impegni successivi. Ma va adesso in partenza la quinta corsa di Palermo. Quarta corsa di Palermo, indigene di 4 anni sul doppio chilometro, si è attardata in fase di allinamento, ripetita RL che è rimasta piuttosto staccata, gli altri cavalli sono tutti a rete ed entrano nella retta delle tribune per il momento dello stacco. Avviene in questo momento, va via il mezzo meccanico, lungo la corda parte molto bene Riffo M, ma a largo anche Riviera e Romeo da Pisa provano ad inserirsi, Riffo M al comando, in bocca la prima curva, Riviera all'esterno dovrebbe avere senza troppi problemi via libera, così è infatti, mentre anche Romeo da Pisa viene avanti con molta grinta e probabilmente anche per lui ci sarà il freeway. Dunque avvicendamento al comando, prima Riffo M, poi Riviera, adesso è il turno di Romeo da Pisa, a cavallo che è stato abbastanza trascurato al gioco, quota che sfiora il 30 contro 1. Dunque al comando, Romeo da Pisa nei confronti di Riviera, che adesso a sua volta chiede strada al capofila e l'impressione è che la riceva senza troppi complimenti, prova a farsi avanti Rigoletto Rab che sposta prevenendo gli avversari, fra i quali il più insidioso, sembra rispetto a P, l'estremo zailer della corsa, quota di 69. Nel frattempo è sempre in avanti, mentre c'è stato l'errore di rispetto a P. C'è sempre in avanti Riviera che raggiunge il primo di due chilometri in un tutto sommato abbastanza comodo, 16 e qualche linea, in seconda posizione sempre Romeo da Pisa, adesso Cesare Ferranti prova in terza ruota a farsi strada con Renoir Rab, terza la corda sempre Riffo M, per linee esterne Rombo di Tuono, in coda al gruppetto in avanti c'è sempre il Robin Hood OM che adesso si sventaglia all'esterno. Dunque continua Riviera, continua Riviera a pedalare in avanti, nel frattempo c'è l'errore di Renoir Rab, adesso anche Robin Hood OM viene avanti in terza ruota con grande animosità e la sua progressione sembra una progressione di quelle imparabili, Rombo di Tuono comincia ad accusare la fatica, c'è l'errore di Riviera che fa un po' di intralcio involontario a Romeo da Pisa, all'esterno di tutti filtra e sembra proprio in grado di staccare gli avversari Robin Hood OM che entra in chiaro vantaggio in retta d'arrivo, al suo interno la galoppante Riviera, poi Romeo da Pisa, per linee interne prova a rifarsi sotto anche Riffo M e siamo alle battute conclusive con la larghissima e nettissima vittoria di Robin Hood OM, Giuseppe Porzio Junior, 2,91 la quota, al secondo posto dovrebbe essere Romeo di Pisa su Riffo M, ma adesso andremo a rivedere sul mio cronometro, ho un tempo attorno al 15,5 per il vincitore, ripeto quota di 2,91, Antonino Porzio il trainer, i colori sono quelli della scuderia Treassi, secondo è Romeo da Pisa, terza Riffo M, niente da fare per il favorito Rombo di Tuono, in numeri dunque 8,7,2 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo.